Buonasera Milano, video di oggi Genoa-Inter. Vediamo come ha preparato la partita Conte e come ha preparato la partita Nicola. Conte ha schierato il 3-4-1-2, quindi inserimento del trequartista in questo caso Eriksen, solita difesa a tre, centrocampo a quattro e di punta Lautaro Martinez e Lukaku. Il Genoa ha schierato un 3-5-2, scegliendo di schierare davanti Favigli e Pinamonti e tenere in panchina il più asperto Pandev. La partita è stata abbastanza agevolmente controllata dall'Inter, che è andata in gol al 34esimo con Lukaku. C'è stato un bel cross di Biraghi e un colpo di testa di Lukaku, che si è liberato della marcatura non irresistibile di Zapata, che non ha fatto una bella figura nella circostanza. La partita poi è stata messa, tra virgolette, in ghiaccio dall'Inter per tutto il primo tempo e è calato un po' di tono nella ripresa, tant'è che intorno al 60esimo sono stati fatti tre cambi da Conte, è uscito Skriniar per D'Ambrosio, quindi cambiamento in difesa, e poi cambiamento anche di modulo perché è uscito il trequartista, quindi Eriksen, inserimento di Borca Valero e poi il cambio in attacco Sanchez per Lukaku. Quindi si torna al 3-5-2. All'ottantatresimo c'è stato un bel gol di Sanchez su un'azione di Moses dalla fascia. Salta secco l'uomo, centra per Sanchez che fa un bellissimo movimento in anticipo e va a depositare in rete. A quel punto il Genoa inserisce Pandev, prova almeno a fare un gol, ma subisce il bel contropiede di Lukaku nel recupero, che in spazi aperti è devastante, dribbla anche due difensori del Genoa e va a fare un gran gol per il 3-0 di oggi. Bella Inter, avversario non irresistibile. Tra l'altro anche abbastanza tranquillo per il discorso salvezza, quindi già non è una grande squadra il Genoa, per di più insomma anche abbastanza tranquillo, quindi non era un test così attendibile. Però vorrei dire anche approccio giusto, partita affrontata nella maniera giusta, non ho mai avuto la sensazione che l'Inter potesse subire il gol del pareggio. Quindi cerchiamo di sottolineare anche la bella prova dell'Inter, nonostante l'avversario non fosse questo grande ostacolo oggi. Per quanto riguarda le prestazioni dei vari giocatori, non mi è piaciuto Ericsson, troppo compassato, sotto ritmo, comunque io da Ericsson mi aspetto altro. Quindi Ericsson non mi è piaciuto come non mi era piaciuto nell'altra partita. L'ho visto giocare meglio, mi auguro che cominci a farci vedere il vero Ericsson. Molto bene Sanchez da quando è entrato, molto bene. Di Lukaku non so più che dire, nel senso che per me è veramente un grande giocatore. Conte non rinuncia quasi mai a lui, l'ho visto rinunciare a Lukaku qualche volta nel post-Covid con queste gare ogni tre giorni, ma altrimenti io penso che lui lo farebbe giocare anche solo su una gamba. E capisco il motivo, quindi non so più che dire. E poi volevo parlare di Moses. Moses ha fatto un'altra grande partita. Salta l'uomo, crossa bene, rientra, crossa anche bene di sinistro, come fece a Parma per il gol di Bastoni. Cerchiamo di capire che nelle partite che contano va tenuto in considerazione Moses. Non va fatto giocare solo col Genoa, ma in partite importanti, tipo non lo so, a Roma con la Roma, partite di questo genere, io darei più fiducia a Moses. A proposito di questo faccio anche una domanda finale, che è la seguente, ed è visto che noi abbiamo preso Akhimi, ci troviamo in questo momento con Akhimi per la prossima stagione, a destra, Moses e Candreva. A chi mi è stato appena preso, io suppongo che o Candreva o Moses debbano cambiare aria. La domanda quindi è voi chi terreste, Moses o Candreva? Poi volevo dire un'altra cosa, è uscita la notizia secondo la quale il Manchester United stia facendo pressioni per far rientrare dal prestito Alexis Sanchez, salvo il riscatto dovuto. Io spero che possa giocare l'Europa League, perché in questo momento Alexis Sanchez serve, è un grande giocatore, Lautaro non è sicuramente in un gran momento di forma psicofisica, più psicologica che fisica probabilmente, quindi per una competizione come l'Europa League mi auguro che si possa contare anche su Alexis Sanchez. Per ultimo saluto i miei amici, nonché compagni, Valerio, Andrea e Maurizio, e poi faccio un saluto anche all'amico Luciano, che sicuramente sta guardando questo video. Saluto anche un mio grande amico e tifoso del Genoa, Mauro, mi dispiace per il Genoa oggi, però la salvezza penso che sia cosa acquisita. Quindi secondo me il Genoa non rischia la retrocessione ormai. Saluto tutti, ci rivediamo al prossimo video, non dimenticatevi di mettere mi piace, condividere il video con i vostri amici e se vi va attivare la campanella. Un saluto.